Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Soprattutto negli ultimi anni una delle figure, anche lei è andato via dalla Lega, anche di un pezzetto di diaspora, di cambiamento, di metamorfosi della Lega. Questo raccontava anche gli interventi pubblici di Maroni rispetto alla Lega attuale. Io me lo ricordo soprattutto per la fase nella quale io e Matteo Salvini eravamo i suoi due vice. Io ero segretario della Lega in Veneto, Matteo era segretario della Lega in Lombardia e il Bobo era il nostro segretario federale. È stato il mio capo politico, un amico, mentre prima di lui c'è stato Umberto Bossi col quale il sottoscritto si è anche scontrato vivacemente più e più volte. Invece Maroni è sempre stato il mio vero capo. Quindi è una perdita sia personale sia per la politica perché penso che i governatori, i ministri, con la sua lucidità, con la sua capacità, con il suo pragmatismo, ne vedremo pochi. È veramente stata una delle persone più capaci della politica e della pubblica amministrazione degli ultimi decenni. Quindi ovviamente un abbraccio ai familiari perché è una perdita terribile. Allora, è clara...